ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi è il giorno di san valentino quindi il giorno degli innamorati e io faccio tantissimi auguri a tutte le coppie che si amano per questa giornata particolare ho pensato di proporvi una versione un pochino diversa dei baci di dama l'anno scorso avevo fatto la ricetta dei baci di dama classici questa volta voglio proporvi la ricetta dei baci di dama al pistacchio ho pensato che parlare di baci in una giornata come questa anche se si tratta di baci da mangiare sicuramente poteva essere una cosa carina io adesso vi lascio al procedimento gli ingredienti faccio gli auguri ancora una volta a tutti gli innamorati con la speranza che possiate sempre desiderare i baci l'uno dell'altra ancora auguri e vi lascio al tutorial per i baci di dama al pistacchio ci serviranno 70 grammi di farina bianca 50 grammi di burro 50 grammi di zucchero bianco poi 30 grammi di farina di pistacchio io nello specifico utilizzo questa della marca bacco l'ho recuperata nel supermercato pam però credo che sia reperibile in tantissimi supermercati l'importante che sia farina di pistacchio oppure se volete usare i pistacchi quelli diciamo in guscio fate attenzione che non siano salati perché a volte li vendono salati al supermercato che si utilizzano di solito per gli aperitivi in questo caso non deve essere salato e poi ci servirà della crema di pistacchio per andare a farcire diciamo così i nostri baci di dama andiamo subito a vedere come si realizzano il primo passaggio è unire la farina bianca alla farina di pistacchio unire poi lo zucchero mescolare leggermente prima di mettere il burro mescolate finché non otterrete un impasto omogeneo quando l'impasto avrà raggiunto questa consistenza potrete lavorarlo a mano una volta raggiunto un impasto di questa consistenza posso creare i baci di dama quindi andrò a fare praticamente delle palline che siano leggermente piatte nella parte bassa e che poi andranno unite è molto semplice realizzarle basta prendere un pochino di pasta frolla e fate in questo modo con le mani per andare a formare delle palline se volete dei baci piccolini potete farle di questa dimensione altrimenti un po più grandi quello lo sceglierete voi una volta che avrete formato la pallina dovete appiattirla un pochino nella parte bassa perché poi comunque le due parti piatte andranno unite con la crema di pistacchio in mezzo quindi cercate di ottenere una cosa di questo genere che sia un pochino piatta verso il basso spero che lo vediate ne formate quante ne volete a seconda di quanti baci di dama volete realizzare e poi ci vediamo prima di mettere in forno adesso che ho fatto tutti i baci di dama devo infornarli ovviamente ora sono a metà perché poi il bacio di dama va unito quindi queste palline che vedete andranno unite insieme comunque adesso la cottura sarà a 180 gradi in forno statico per circa 30-35 minuti questi sono i baci di dama appena sfornati sono venuti benissimo come potete vedere sotto sono piatti perché adesso dovremo unirli quindi io metterò la crema di pistacchio in questo caso utilizzerò questa crema qui metterò ovviamente la crema nella parte piatta e andrò ad unire le due estremità diciamo per formare il bacio di dama ma è molto più semplice farlo che spiegarlo quindi cominciamo subito il procedimento è uguale per tutti i baci quindi è sufficiente mettere la crema di pistacchio in questo modo e poi unisco le due parti premo leggermente così il procedimento è identico per tutti quindi io mi fermo qui e ci vediamo quando avrò finito di unire tutti i baci questi sono i baci di dama al pistacchio finiti adesso dovete lasciare raffreddare magari 10 minuti un quarto d'ora e poi potrete gustare io spero di esservi stata utile di avervi dato un'idea originale per san valentino vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme mettete un'idea